segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te oppure a rotolarsi nel fango noi continueremo a volare alto e sono convinti che alla fine riusciranno a farci perdere la calma ma finora l'hanno persa loro allora parole molto dure che non hanno però un nome e un cognome esplicito io comincerei subito da chi cominciamo da fiorenza per chiederle a chi si riferiva la meloni con questo attacco così duro a chi si riferiva mi pare che quello che è successo diciamo in questi ultimi tre giorni abbia dei nomi e dei cognomi c'è una trasmissione che è quella di antonio ricci c'è un compagno della meloni perché rotolarsi nel fango diciamo è quando arrivano delle cose che tu non sai non puoi controllare in questo caso ha fatto tutto lui quindi il problema non è rotolarsi nel fango probabilmente lei si riferisce a chi ha deciso di tirarli fuori in questo momento ma questo bisognerebbe chiederlo a ricci che ha ammesso di avere questo materiale da tempo e dice di averlo fatto semplicemente perché ha visto un'intervista in cui giambruno non gli è piaciuto come si un'intervista a chi a chi per altro stesso gruppo in cui esattamente quindi diciamo che è un rotolarsi nel fango tutto lì tutto tra di loro allora il problema secondo me è quando il privato entra nel pubblico entra a palazzo chigi perché poi questo diciamo non è una cosa che indebolisce solo giorgia meloni indebolisce l'italia come già successe per silvio berlusconi quando si comincia a parlare di sesso di cose private per quanto riguarda chi governa questo paese in realtà rischiamo di rotolare tutti nel fango quindi sarebbe bene mettere un argine subito a tutto quello che sta accadendo e credo che lei l'abbia fatto dicendo basta la mia storia finisce qui quindi un primo passo l'ha fatto il problema è quello che c'è dopo sinceramente sono inquietanti le parole di ricci che dice lei dirà e capirà che mi ringrazierà che vuol dire che c'è altro questi erano due fuori onda di alcuni sicuramente di alcuni mesi fa da lì ad ora ci sono altri fuori onda c'è qualcuno che ha fatto altri video il problema è questo quindi diciamo che il timore è che arrotolare nel fango possono essere le istituzioni non loro o altri analisa curso crea il presidente del consiglio in quel breve in quella breve concessione che al cairo ha fatto alla vicenda tutta interna